Buonasera a tutti, io vi porto i complimenti e i saluti dell'Irpinia. Veniamo dalla provincia di Avellino, viviamo problemi uguali a tutti voi, ho sentito con grande interesse tutti gli interventi che mi hanno preceduto, effettivamente viviamo le stesse problematiche, gli stessi suprusi e gli stessi scempi. Io vorrei andare addirittura oltre tutte queste sagge valutazioni che sono state fatte. Secondo noi c'è un disegno molto preciso e molto chiaro, che è quello di speculazione verso le zone interne. Si tenta di soddisfare interessi privati, ma anche mafiosi, anche camorristici e anche di una sporca politica sulla pelle delle zone interne. Le chiamano zone interne perché forse all'interno non si vede, dove ci sono poche popolazioni, dove i paesini sono di scarsa densità demografica e quindi si riesce a fare qualsiasi cosa. Addirittura la provincia di Avellino non ha più la ferrovia, è stata tolta la ferrovia, è stato tolto un tribunale, è stato chiuso un ospedale. Quindi tutti i servizi base che servono a vivere la vita, ad avere una dignità, sono stati eliminati. Ci hanno tolto la speranza, cosicché ci sia un forte spopolamento, immigrazione, ripresa a livelli grandissimi, non si fanno più figli, perché se non c'è la speranza non c'è la possibilità di mettersi una famiglia, perché non si prospetta più un avvenire diverso, un avvenire migliore con l'eliminazione della speranza e quindi sempre meno sono le persone, sempre meno è la forza di opposizione ai scempi di questo tipo e quindi si può fare di tutto. È questo quello che sta avvenendo secondo noi. Nella provincia di Avellino le paleoliche non si riescono mai a raccontare, penso che siano più di mille, ma nello specifico non siamo riusciti neanche ad avere dati certi, anche perché da un giorno all'altro ne mettono una, quindi poi è difficile tenere il conteggio. Dovunque, Monteverde che è il secondo borgo più bello d'Italia, ha vinto la Palma appunto come secondo borgo più bello d'Italia, ti giri tutti intorno e non hai una sola visuale libera da paleoliche. Il problema fondamentale secondo noi è che è proprio di sensibilizzazione, perché quando si parla di energia verde, energia alternativa, non l'inquinamento, è difficile riuscire ad avere poi una comunicazione efficace con le persone, perché effettivamente ci riescono a prendere in giro, perlomeno fino adesso sono riusciti a prenderci in giro, a farci credere che fosse un qualcosa di buono, ma poi le popolazioni che hanno tutte queste paleoliche, che tipo di vantaggi hanno? Le bollette dell'energia elettrica hanno degli sgravi fiscali? Nessuno, nessuno, anzi ancora di più c'è una parte destinata alla produzione di energia alternativa. Ma la convenienza qual è? Arriva la paleolica, mettono un parco eolico, il parco eolico è di un privato che ha le autorizzazioni regionali, spesso acquistandole, e poi acquisisce i tributi dell'energia elettrica prodotti in maniera alternativa. Prende tutti i fondi che vengono stanziati dallo Stato e dall'Europa per la produzione di energia elettrica e la rivende a noi, allo stesso prezzo di prima. Ma qual è la convenienza per i cittadini di questi villaggi, di questa zona interna, dell'Irpinia, del Sannio, del Molise, dell'Abruzzo, della Puglia, della Basilicata? Tutti gli stessi scempi stanno vivendo, perché sperano che ce ne andiamo, sperano che lasciamo stare, sperano ogni giorno che nessuno si metta insieme come questa grande manifestazione a discutere degli stessi problemi e provare a contrapporsi tutti insieme a questi scempi. Questo loro vogliono e fino ad adesso hanno avuto dei risultati. Tutte queste iniziative e questa meravigliosa, a cui partecipiamo con grande emozione, con grande voglia e con grande interesse, e pensiamo che forse siano le istituzioni a dover portarvi un saluto e un complimento, siano le istituzioni a doverlo fare, invece le istituzioni non ci stanno mai. Ogni volta che si parla di interessi di questo tipo, le istituzioni non ci stanno mai, perché nel corso degli anni le istituzioni si sono vendute, si sono vendute ed è per questo che noi possiamo poi avere tutti questi scemi, perché altrimenti non ci sarebbe da discutere. Noi abbiamo prodotto semplicemente della sensibilizzazione verso le persone, attraverso la nostra pagina Facebook di Info Erpinia, che nella provincia di Avellino è la più seguita, dopo un mesetto è arrivata una chiamata da un avvocato di una società eolica di Padova, che ci chiedeva, volendo investire nella nostra provincia a mettere altre paleoliche, che ci chiedeva com'era la situazione. Io ho detto, per non essere frainteso, che siamo sul piede di guerra, e loro hanno registrato, perché io sentivo che mi stavano registrando. Però immaginare un po' che cosa significa il potenziale di un semplice comitato, di una semplice associazione per loro, immaginare se le istituzioni avessero fatto le istituzioni, ovvero conoscendo i loro territori, perché questi territori hanno tutti la stessa vocazione, agroalimentare, turistica, paesaggistica, ed avrebbero un grande avvenire, però non possono avercelo, perché se dobbiamo girarci una parte e vedere le paleoliche, all'altra e vedere gli elettrodotti, all'altra e l'accumulatore, all'altra e vedere il petrolio. Qua, penso che anche qui ci siano dei permessi che stiano andando verso il petrolio. Quindi istituzione ambientale totale, tutti i prodotti tipici che hanno grande valenza, anche culturale, perché i nostri nonni hanno lottato, e dietro ogni piatto tipico c'è il sudore dei nostri nonni, e c'è la storia nostra, tutto quello viene disintegrato. E come diceva giustamente Pilucci, è quella la nostra vera energia. Energia però che viene calpestata, e che l'unico modo che abbiamo per non farcela calpestare è riunirci, mettere insieme le forze. Lo diceva Pinuccio, andiamo in regione insieme, io oggi porto anche il saluto di altri comitati della provincia di Avellino, tipo Comitato No alta Tensione, Comitato Voria, Comitato contro l'eolico selvaggio, che anche loro sposano totalmente questa causa. E quindi è ora di riuscire a dialogare, dobbiamo andare oltre gli steccati politici, perché quelli li utilizzano. Tant'è vero che tante paleoliche vengono messe a confine, poi senza neanche interpellare la regione confinante, perché loro sfruttano proprio il confine, perché il confine è sentito un po', vabbè, è meno centrale, sta più decentrata, e intanto là però compiano tutti gli scempi possibili. Però il confine è semplicemente politico, perché poi andiamo a vedere le peculiarità, le bellezze, le eccellenze sono pienamente in comune fra tutte queste zone interne. E quindi quello che noi diciamo è che secondo noi c'è bisogno di questo dialogo e c'è bisogno della gente. La gente può cambiare il corso della storia. È successo con i Sanniti, la seconda guerra sannitica, quando l'impero romano è stato fermato, e l'impero romano di ieri sono le multinazionali di oggi. E allora significa che c'è la possibilità di fermarle, se ci mettiamo insieme e se combattiamo insieme. C'è la possibilità, dobbiamo crederci e dobbiamo polere bene alle nostre terre, dobbiamo combattere insieme per un futuro nelle nostre terre. Noi non vogliamo più scappare, vogliamo rimanere qua ed avere la nostra dignità. Grazie. Applausi Grazie.